Ciao. Simone, in dove si trova Simone? Oh, a Gubbio. Buongiorno Simone. Ciao Simone. Buongiorno. Buongiorno conigli, venerdì prossimo ci vedremo. Nella splendida cornice perugina. Alì, alì, alì. Simone, allora. La mia sessione, io sono un maniaco dell'ordine. Sì. E ve ne dico solo due delle più clamorose. Allora, le camicie le tengo tutte in ordine cromatico, nel senso da quella bianca a quella nera. Sì, sì. E mentre metto le maglie in ordine alfabetico, voi direte come fai a mettere le maglie? Non è facile Simone. Allora, le maglie, io intendo, sono un collezionista di maglie di squadre di calcio. Ne ho 91. Bene. Allora, le metto su un armadio, tutto in bella rivista, dalla A di Arsenal alla V di Valencia. E guai a metterle in ordine sbagliato perché mi accorgo subito. Simone, tu hai una compagna? Sì. Ti accetta tutto questo? Come vive questa condizione, Simone? Si è adeguata. Si è adeguata, povera donna. Sì. Ed è costretta a stare attenta dove si rimettono le cose perché mi suona l'allarme. Come vedo, penso che la Germania è prima del Brasile a Germania. Eh, ma non può stare prima del Brasile a Germania. Simone, ti vogliamo bene, eh? Non farci del male. Amici, amici. Non farci del male venerdì. Ciao, Simone. Ciao, letizia. Ciao, ciao.